E scontro e battaglia sul tema tasse. Il PD organizza banchetti in tutta Italia per celebrare quello che chiama il No Tax Day sulla prima casa. Le opposizioni invece insorgono, ma i cittadini cosa pensano? Tutta campagna pubblicitaria perché sotto le elezioni... Si fa fatica a tappare i buchi, no? Se sai con i soldi da una parte, devi lavare da un'altra parte, non è che... Infatti, io devo andare a pagare sette tasse adesso, di cui non posso pagarle perché tutti insieme non ce l'ho. Solo uno scienziato potrebbe mettere una scadenza unica così, no? Siamo uno dei paesi che paga le tasse più alte di tutti. Ci dovrebbe essere una regola che fa pagare le tasse giuste ai guadagni giusti e non l'inverso. Lei che cosa ne pensa? Grazie.